Continuiamo a parlare di calcio con il Prato, Paolo Toccafondi è tornato ad essere presidente, nonché l'azionista di maggioranza del club Biancazzurro. Nell'intervista che vi presentiamo, lo stesso Toccafondi ci fa un po' il punto sulle operazioni di mercato e ci parla del futuro del club. Paolo Toccafondi, di nuovo presidente del Prato, sfumate tutte le opportunità di cessione, ora si torna a concentrarsi sulla stagione, siamo anche un po' in ritardo per quanto riguarda il 2017-2018, che cosa bolle in pentola? No, in ritardo no, devo dire anche perché poi ho letto che la trattativa non ha inficiato, perché in 3-4 giorni Jacopo Corradi ha preso la sua decisione, per cui assolutamente dovessi dire che questo ha causato un danno alla programmazione, almeno personalmente per me sarebbe una scusa assolutamente. Si riparte da alcune certezze, Marzorati, Martinelli, Matteo Cavagna, Sar che è il nuovo portiere, ne manca un altro giovane, a breve probabilmente altri 3-4 ragazzi giovani, l'impostazione sarà la stessa, 6-7 over e 13-14 ragazzi giovani. Oggi abbiamo preso Gabriele Vangis, siccome mi viene sempre detto che non investo sul nazionale di lettanti, è stato un ragazzo che è nato da noi, poi si era perso e poi ha trovato probabilmente, spero la sua maturità, 27-28 anni, l'anno scorso ha fatto 18-19 gol allo Scandici. Capito l'allenatore, bisogna aspettare ancora qualche giorno? Sì, come ho detto qualche giorno perché la persona che è stata individuata è sotto contratto con un altro club, per cui è chiaro che prima deve nell'eventualità risolvere il proprio rapporto di lavoro, dopodiché potrà essere l'allenatore nel Prato, nel caso non risolva ci dirigeremo verso un altro professionista. Quindi scartate tutte le ipotesi che erano state fatte fino a questo momento? Io l'ho letto scritto da punte parti. Che obiettivi avrà quest'allenatore? Come dicevo, quest'anno, dato che la valutazione è che sicuramente con organizzazione e con voglia di fare si possa far bene in questo campionato perché lo scarto di valore tra la quinta e la quinta e la quinta e la quinta e la quarta ultima non è eccessivo. Abbiamo visto l'anno scorso il giorno di ritorno con una squadra sempre giovane che il giorno di ritorno abbiamo fatto. Probabilmente stiamo cercando sulla base delle nostre esperienze di scrivere proprio un modello di lavoro basato su coraggio e intraprendenza che probabilmente dovrebbe caratterizzare poi quello che è l'anima del prossimo Prato. Sperando che questo lo renda divertente da seguire.